Chrome OS. Come installare questo sistema operativo basato sulla semplicità e sulla piacevolezza d'uso in una chiavetta USB? E sì, perché a volte può essere utile avere un altro sistema operativo oltre a quello principale, che può essere per esempio Windows, perché magari vogliamo avere un'interfaccia grafica differente, magari perché come me siete curiosi oppure perché non vi accontentate mai e avete voglia di cambiare. O magari volete accedere ai vostri file da computer separati, avendo sempre però la stessa interfaccia grafica. Ecco, in questo caso Chrome OS su chiavetta USB ci permette di fare questa cosa, perché poi, lo vedremo, possiamo avviare il sistema operativo da qualsiasi computer. Oppure magari come me siete dei creatori di contenuti e avete voglia di fare qualche tutorial su questo sistema operativo. E così non dovete per forza magari acquistare un Chromebook per fare il tutorial, ma potete direttamente usare questo stratagemma per non dover spendere un sacco di soldi nell'acquisto di un secondo laptop. Ecco, tutti questi scopi ci portano ad installare Chrome OS su chiavetta USB. In questo video vediamo come si fa. Vi lascio al tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare per avviare il nostro Chrome OS è ovviamente andare a scaricare tutti i file che ci servono. Per la precisione non andremo a scaricare Chrome OS, bensì Cloud Ready, che sarebbe un Chrome OS leggermente modificato, se vogliamo definirlo così. Perché? Perché ovviamente Chrome OS è un sistema operativo vero e proprio, quindi non può essere messo a disposizione pubblicamente e gratuitamente. Per questo abbiamo Cloud Ready che ci viene in aiuto. Partiamo da questo sito che vi linko qui sotto in descrizione e andiamo qui sotto a scaricare il download del USB Maker. Questo è un piccolo programmino disponibile solo per Windows. Attenzione, quindi questo tutorial può essere seguito soltanto se avete Windows. Vi scaricate il USB Maker, che è un piccolo programmino che utilizzeremo poi per creare la nostra partizione USB. A questo punto, dopo aver scaricato questo programmino, dobbiamo andare a scrivere il sistema operativo sullo chiavetto USB. Dobbiamo eseguire il programma che abbiamo appena scaricato, lo vedete qui sul mio desktop. Andiamo ad eseguirlo, diamoci un doppio clic e aspettiamo qualche secondo. Ora si avvierà questo programmino che abbiamo appena scaricato, che vi ricordo è disponibile solo per Windows e serve a creare questa chiavetta USB contenente il sistema operativo di Chrome OS. Ora voi non state vedendo questa parte, ma mi sta chiedendo i permessi di amministratore, quindi ora me li ha chiesti. In questo caso mi li ha chiesti due volte perché ho avviato il sistema, qui il programma per due volte, quindi chiudiamo un'istanza così ce ne rimane una sola. E ora andiamo a fare clic su Next e andiamo a inserire la nostra chiavetta USB. Dopo averla inserita, troveremo nell'elenco il nome della nostra chiavetta USB, la selezioniamo, poi diamo Next e poi diamo Install. Bene, ora vediamo come avviare il nostro sistema operativo direttamente da chiavetta USB. Abbiamo qui questo PC, della HP e abbiamo la nostra chiavetta con Cloud Ready installato. La prima cosa che dobbiamo fare è inserire la nostra chiavetta nella porta del computer e ora per avviare il sistema operativo dobbiamo entrare nel boot menu. Che cos'è il boot menu? È un menu ufficiale che viene sempre integrato da qualsiasi produttore di computer che ci permette di scegliere da quale spazio di archiviazione avviare quale sistema operativo. È utile, come nel nostro caso, per avviare un sistema operativo, un intero sistema operativo, da chiavetta USB. Come facciamo ad accedere a questo boot menu? Dobbiamo utilizzare un tasto specifico che varia da PC a PC. Ora, per questo computer il tasto da premere è F9, nel vostro caso potrebbe essere F9 come potrebbe essere per esempio ESC oppure F2. Insomma, cambiano molto i tasti e per questo vi linko qui sotto in descrizione una pagina in cui potete trovare tutti i tasti da premere in base al vostro computer per accedere al boot menu. Detto questo, partiamo. Dobbiamo premere quindi F9 sulla nostra tastiera. Abbiamo inserito la chiavetta, accendiamo il computer e come si accende iniziamo a premere F9. Premiamo F9, continuiamo a tenerlo premuto e vedete in questo caso siamo entrati nel BIOS. Non era quello che volevamo fare, infatti ho sbagliato il tasto da premere ho premuto F10 invece di F9. In questo caso possiamo fare la stessa identica cosa anche dal BIOS, andare in boot options e mettere come prima, come massima priorità la nostra chiavetta USB. In questo caso però per farvi vedere come funziona nel vero senso della parola andiamo ad aprire veramente il boot menu. Quindi diamo ESC, ignoriamo queste modifiche e poi teniamo premuto F9. Continuiamo a tenerlo premuto così dovremo accedere al boot menu. Vedete? Avete visto lì sotto che è comparso un avvisino? Eccolo qui. Vedete? USB hard drive sun disk. Questo è il sistema della nostra chiavetta. Diamo invio e avviamo questo sistema operativo. Al primo avvio ci vorrà abbastanza tempo, dovete lasciarlo lì per qualche minuto. Vedete? È già comparso Cloud Ready. Quindi ora dobbiamo soltanto aspettare che si carichi tutto il sistema. Diamogli qualche secondo. Ovviamente a voi sembrerà lento perché siete abituati a far girare un sistema operativo sull'hard disk del vostro computer. Se invece utilizzate tutto su una chiavetta, qualsiasi processo del nostro sistema operativo deve essere effettuato direttamente sulla chiavetta. Quindi è ovvio che è tutto molto molto pesante. In questo caso voglio farvi notare come noi siamo già logati in questo computer. Vedete Tutorial Express. Perché? Perché io questo computer l'ho già utilizzato in precedenza. Ovviamente voi dovrete fare la classica configurazione iniziale. Quindi andare a settarvi la lingua italiana e insomma fare tutte queste cose. Lingua italiana, accedere all'account Google, dirgli se volete condividere i dati sull'utilizzo e tutte quelle cose lì. A quel punto arriverete direttamente sul vostro computer. In questo caso noi siamo nella schermata di blocco del computer. Andiamo ad inserire quindi la password del nostro account Google con il quale ci siamo logati. Andiamo ad inserirla ed ecco che siamo nel nostro sistema operativo. Ovvio è che noi eravamo già dentro. Voi dovete fare tutta la configurazione. E questo è il sistema operativo vero e proprio. Vedete? Noi qui abbiamo i toggle rapidi, molto simili ad Android. Tra l'altro vedete anche questa grafica molto molto carina. Questo tastino vi porta alla schermata di blocco, la stessa schermata in cui eravamo prima. Dove per andare ad utilizzare insomma il computer dobbiamo andare ad inserire la nostra password. Andiamo a farlo, andiamo ad inserire la password, diamo invio ed ecco come siamo nel nostro pc. Quindi possiamo aprire Chrome e possiamo fare tutte queste cose. Abbiamo un computer perfettamente funzionante con il sistema operativo di Google con Chrome OS. Abbiamo appena visto come installare Chrome OS su una chiavetta USB, ma per cosa è utile avere questo sistema operativo installato? Innanzitutto, come vi ho già detto nella intro di questo video, se abbiamo un pc molto molto vecchio potrebbe essere utile installarci questo sistema, che oltretutto installandolo su chiavetta USB non va ad intaccare i file di sistema. Quindi non rischia di appesantire ancora di più il pc tra virgolette cassone, quello che ci mette dieci minuti per per avviarsi, quello che per aprire il browser sta mezz'ora, quello che scalda le ventole dopo cinque secondi. Ecco, esattamente quel tipo di pc che secondo voi è irrecuperabile con sistemi operativi come Chrome OS può essere tranquillamente recuperato. Poi questo sistema operativo può essere utile anche per esempio agli studenti o alle scuole che non hanno esigenze particolari, non devono scaricarsi programmi come OBS Studio per esempio, ora mi viene un esempio semplice. Quindi capite come questo sistema è molto adatto anche dalla grafica e dalla semplicità insomma per scuole, studenti, insegnanti. Infatti se conoscete se conoscete il creator Riccardo Palombo sicuramente saprete che lui ha donato cinque Chromebook a delle scuole. Questo ha maggior ragione per farvi capire come i Chromebook siano molto adatti o in generale insomma il sistema operativo Chrome OS a tutto l'ambiente scolastico di studenti, insegnanti e insomma nelle scuole. Questo perché come vi ho detto ha un'interfaccia semplice e soprattutto intuitiva ed ha un material design sempre al passo. Questa cosa magari non interesserà alle scuole però alle persone come me interessa quindi ecco sappiate che ha sempre la grafica program aggiornata insomma quindi è anche molto molto carino dal punto di vista estetico. Per capirci voi l'avete già visto è molto simile a Windows 11 l'avete visto insomma è praticamente identico quindi molto molto carino. Ma sì purtroppo ci sono anche dei punti di debolezza e in particolare ce n'è uno che secondo me è quello principale ovvero non si possono installare applicazioni. Ora qualcuno sta dicendo quindi tu ci hai fatto guardare mezz'ora di video e solo dopo ci dici che non ci possiamo fare niente con questo sistema. Ecco non esattamente perché come avete visto abbiamo il browser abbiamo Google Chrome e Google Chrome ci apre un mondo perché perché noi con Chrome possiamo creare delle scorciatoie ad una pagina web. Guardate ve lo mostro. Andiamo sullo schermo e vi mostro come io andando in un qualsiasi sito andiamo per esempio sul mio YouTube Studio. Ecco andiamo su questo YouTube Studio e ora noi possiamo crearci un software un'applicazione a partire da un sito web. Come facciamo? Tre puntini, altri strumenti, crea scorciatoia. A questo punto si aprirà un pop-up, apri come finestra, crea e tac abbiamo la finestra di YouTube Studio. Questa cosa è utilissima perché ci permette con estrema semplicità di creare delle vere e proprie applicazioni partendo da dei software quindi è utilissimo. Ovvio non possiamo installare nemmeno i software di Windows quindi non possiamo avere i file .exe per capirci gli eseguibili e non abbiamo neanche il Play Store anche se devo dirvi per un utilizzo prettamente scolastico come vi ho detto prima non ha senso avere il Play Store perché ci si scaricherebbe app come Word, Excel, PowerPoint che oltretutto su display superiori a 10 pollici non sono nemmeno utilizzabili senza abbonamento quindi il Play Store sui Chromebook è inutile e la non possibilità anzi di installare software di Windows alla fine non crea troppi problemi perché come vi ho appena mostrato possiamo crearci le scorciatoie direttamente da Chrome per la maggior parte dei dei siti dei software e dei servizi che utilizziamo insomma. passiamo ad alcune alternative a Chrome OS perché sì ci sono anche delle alternative a questo sistema la più famosa è sicuramente Linux le varie distro di Linux per esempio abbiamo Ubuntu poi abbiamo anche Kali Linux se non sbaglio ora non mi ricordo se si pronuncia così Suse OpenSuse insomma abbiamo un sacco di distro ma quella che mi piace di più è sicuramente Linux Mint. Ci ho già fatto un tutorial in cui vi ho mostrato come installarlo su una chiavetta USB quindi se vi può interessare ve lo linko nelle schede. Ecco Mint è un'ottima alternativa per quanto mi riguarda a Chrome OS e poi ovviamente c'è anche Mac OS Catalina installato sempre su chiavetta USB perché sì si può fare non ho testato il metodo la procedura ma credo che si possa fare giudicando dai tanti tutorial presenti online e dai tanti articoli sui blog anche più blasonati. Quindi fondamentalmente abbiamo queste due alternative le distro di Linux è Mac OS Catalina. Insomma abbiamo visto come usufruire di Chrome OS direttamente su chiavetta USB senza dover installare nulla. Quindi davvero questo metodo è utilissimo soprattutto per tutti gli utilizzi di cui vi ho già parlato prima quindi vi ricordo tutti i link qui sotto in descrizione per scaricare i vari tool, siti e tutto quello che vi serve tutto quello che ho nominato durante il tutorial. Vi linko anche per curiosità il progetto di Riccardo Palombo della donazione dei 5 Chromebook alle scuole perché secondo me è stata davvero un'ottima iniziativa quindi vi linko il suo progetto qui sotto in descrizione e detto questo io vi ricordo di venirmi a seguire su Telegram a Chiocciola Tutorial Express per avere link, news, contenuti extra e risorse esclusive davvero lì vi parlo di ciò che faccio, ciò che imparo, mentre imparo insomma vi parlo di un bel po' di cose poi vi ricordo l'iscrizione al canale con la campanella se non volete perdervi tutti i prossimi video e infine la mia newsletter su Substack a texpressyt.substack.com oppure direttamente dal link qui sotto in descrizione lì potrete sicuramente trovare un bel po' di materiale per esempio tutti i link ai video che ho pubblicato sulle varie piattaforme YouTube ma anche Twitch perché a volte sì utilizzo anche Twitch e insomma poi trovate dei link a tool, siti, servizi, applicazioni che io reputo interessanti detto questo io vi ringrazio per la visione, vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video Grazie a tutti